Quando avete gettato la spugna e nel ring ci siete mai davvero entrati? Quando ogni tanto incontro chi è stato adolescente insieme a me, spesso i discorsi finiscono su tre argomenti specifici. Il primo, beato te che sei famoso e gancio chissà quante te ne sei scopate. Due, beato te che sei ricco perché se lavori in tv lo diventi per forza, o almeno questa è ciò che ci raccontano le leggende metropolitane. E poi, tre? Eh, però, che fortuna che hai avuto! A me la buona sorte ha girato le spalle, e via, con la lista della spesa delle sfighe vere o presunte che hanno ostacolato il raggiungimento della bella vita. Eh? Dell'oro, dei piaceri e dei paradisi musulmani. E questa è una grandissima citazione, eh? Prendetela per tale. Ma la verità, e a volte con loro sono spietatamente franco, è che non c'è stato nessun vento ostinato e contrario. Solo una rassegnazione precoce, un belare nella direzione del gregge, un'ambizione ferma alla birra del sabato, la timidezza dei giorni vuoti, tali per scelta. Lontana è la scossa che io percepivo, quella del voler lasciare qualcosa di mio in questo mio tempo. Molto meglio fingere una vita spericolata, nel caldo della cuccia, e giocare ai seduttori o ai politici, per un piacere di rapida durata. E dopo che gli faccio il culo, usando parole anche più affilate, con più spigoli, meno televisive, anche un po' più spinte, rispetto a queste, ecco, dopo mi ergo io stesso ad esempio negativo. Perché, malgrado tutto, lo sono. Quindi, dal piedistallo scendo. Ma, su quel pulpito ci sono perlomeno salito. Quando c'era la fame vera, il desiderio bruciante, il voler sovvertire le condizioni iniziali decise dal fato, eh, non ero così come oggi. E chi è cresciuto con me lo sa, o lo dovrebbe sapere. Ha visto con che tenacia ho accettato di veder giudicato il mio cuore e condannata la mia anima, da chi invece avrebbe dovuto custodirli in un tabernacolo. E conosce, anche in lontananza, la solitudine, i giorni trascorsi da solo, nel modo migliore, sapendo che solo nella mia mano c'era il seme del mio destino. E allora, guardia alta, e usciamo a combattere. Ovviamente, sto parlando a livello figurato e figurativo. E oggi quel vigore, con l'arrivo del benessere, se n'è andato. Sì, certo, non sono ricco, ma nemmeno devo più girare con scarpe di modelli diversi ai piedi. E quel vento di intraprendenza, di inscalfibilità, di io andrò oltre, non soffia più. È una resa pacifica, che non allenta il combustibile delle mie passioni, perché lavoro ancora col wrestling, con grande trasporto, ma azzera quasi del tutto i propositi e le mire. E non nel senso di pace buddistica delle cose, perché non è cercato o meditato, ma è sostanzialmente subito. Ho accettato, ma passivamente, come un'imposizione, e non come qualcosa che invece hai firmato. Tutto questo per farvi da monito, per non diventare vecchi e cadenti, come sta accadendo a me, a raccontare a tutta la gente una scusa che annebbi il muro del proprio stare fermi. E ragazzi, vi ho regalato in questa discussione nel soliloquio una serie di citazioni musicali a cascata. E ora, guardate qui che bello, perché tutta sta roba qua nasce questa riflessione da questa qui. Guardate questa pagina di Amazon, me l'avete segnalata voi, chiedendo una vetrina, una piccola citazione, con generosità verso una persona che si conosce per vie traverse. E qui stiamo parlando di una donna di 90 anni che, sfruttando le nuove tecnologie, sogna ancora. E si autopubblica, probabilmente con l'aiuto dei discendenti, ma si autopubblica un libro e diventa scrittrice. La spugna lei non l'ha gettata e ancora nel ring anche al tredicesimo round e Mendoza ti verranno i capelli bianchi. Adesso andiamo a citare anche i cartoni animati. E diventa scrittrice per raccontare la guerra che ha vissuto da bambina e da adolescente. Noi che oggi la guardiamo pensando che quelli siano orizzonti forse troppo lontani. E credetemi, questa pagina, io di solito diciamo non pubblicizzo o non do risalto a queste richieste, ma quando ho visto questa pagina, questa piccola descrizione, quando mi sono accorto di cosa c'era in ballo, mi sono detto questa pagina è magia pura. Perché io non credo che questa donna voglia speculare o si immagini chissà cosa con i 13 euro di prezzo imposto, anche perché di prezzo a schermo, anche perché io stesso sono un self publisher. 13 euro vuol dire che se ne intasca due, che devono essere tassati, quindi non diventerà ricca. ma a 90 anni vuole ancora lasciare qualcosa di suo in questo suo tempo. E per me è magico, è magia. E se non la percepite, cioè se chiudendo questo video non vi mettete a fare qualcosa di concreto per voi e per il vostro domani, allora forse davvero siete già come me e il fuoco non si accende più. Oh, poi se avete la lezione di nuoto fatelo più tardi, fatelo nella serata, ma non fate spegnere questa piccola scintilla. Poi se il libro vi interessa potete acquistarlo. Ma qua c'è l'esempio, c'è la virtù di una via che ci mostra quello che ancora potremmo ottenere. Perché? non è comunque mai troppo tardi. Certo, per diventare astronauti magari sì, ma per altre cose no. E io lo so, cioè lo so, voi siete qua perché volete parlare un po' di wrestling, no? E sarebbe facile adesso andare a prendere il combattente più anziano ad aver calcato il ring oppure dei temi similari per allacciarsi a quanto ho sinquidetto. Però non mi va. Non mi va. Mi sembrerebbe di anacquare questa vendemmia. E quindi oggi vi canto solo una canzone buona forse per andare al mare. E mi fermo a quella che potreste anche tranquillamente definire come filosofia da quattro spicci. Non mi offendo. Video così un po' diversi dal solito vi possono interessare? Oppure sono pallosi e inutili e bla 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 roba da cestino? Beh, intanto lasciate comunque un like che se no YouTube mi affonda e poi non pubblico più niente. E poi ditemelo nei commenti. Nel caso o rassodo il terreno per un futuro come consulente psicologico. Non si sa mai.